Donne 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 La bina għira Mwoli fju Insalmilkom senjuri unilqakom un tikum merbal dar buħra fuq dan istatana tal-program Belle Donne kif intkom nisperaw li tin sabu tajbin un nisperaw li bdejtu senat tajba u ġvera mila min qalbi nisperaw li nisperaw li bdejtu senat tajba u ġvera mila min qalbi nisperaw li kolkom senat tajba senata suċess senat tajba senat tajba senat tajba senat tajba senat tajba senat tajba u naturalment saħħu nisvera ġik leħtar ħadġ importanti naħsepa li jina l-koll mila kif ta' fuħu bħassoltu jina nintaqa ma protogonisti ġodda ma protogonisti li jindkomu koll tamlu partim il-programma li jikungnu koll il-telespetta turi tajna li jiseggu il-programmi tajna dawk li japplikaw jonkella japplikaw l-um šaħat li jkun ixti om li jidġu biħt iġiħaw nek u tintaqa fti t-tmana u veramen ser nuħdu pjeċi r-anka bil-prezentza taħħal li xiega persona persona li jim nuħu pjeċi r-tseggu l-programmi tajna muġbis fu ITV anka fu il-stazjon favorite channel u nuħdu pjeċi r-hafna anka bittawun il-nest li kifta battajtu ma nest li iso miħat t-ttaw gġiħu 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 li għanna għonek il-prodotti tal-l-Angel. Prodotti li senużaw propju uħut mill-li għanna propju għonek fuq li xkaffa li forsi għankan kun nista għankan arrawum għalli flimkin u koll inkunna fuq xiex għan itkelmu. Daun umma il-prodotti li għanna il-prodotti tal-l-Angel u il-lum sern itkelmu fuq il-prodotti li għanna għwara. Il-prodotti li umma tal-lakme għanna il-viola naturalmente għanna il-kullir l-uħrajn maħsanitukum aktar dettagli tal-lakme għanna u għanna u għanna u għanna u għanna u għanna il-kullir l-prodotti tal-ġessica. Umbaħt se tkun maħna ġessica bil-prodotti għawnek flimkin maħħaw kord se jdin namlu kol il-make-up fu il-prodotti tal-ġena. Se jdin taħaw u koll maħdorjiet li flimkin maħħaw kord se jdin kompruniske l-modwar il-prodotti tal-ġessica. Se jkoll na u koll fsid-informazzjoni għall dawk li forsi għanka għandum iddu i fer li u marti fitxiali maħta iġu għanka bħx forsi jitneħħe u għiħt għanka xandu juħza fil-fatt għanna u koll kitts speċiali għall dawk liħtu u ovjjament jaqta l-informazzjoni se jdin tukum u koll graħtsi u koll għal-dorjiet. Se jdin taħaw maħġu għozet u koll mil-unic tajs tal-ġibeld valetta għanna prezzid verament vantaċużi għall dawk liħtu u għanka jakwissaw xie tibdila u naturalment umba ten kun nistaħu għan kanal u l-program taħna billi narraw il-protogonista taħna fitbiddera differenti li forsi jitneħem xtaqet li jikolla. Bilaħħan fakkarku mu koll għal-dawk li jieħti u jieġu għanek għal-iħle. Jina aħna nħuddu pjaċir il-bibtaħna kifdejemnajdu għamiftuħa l-kulħat nħuddu pjaċir l-intakaw maħkom indkom kune din tarawna. Għal-durra xie kul tan mussew li tarawna indkom bizza għan kundu iddunraw l-l-komu kod vera. Tistaw taqabdu l-mobile għan katibat u messaċ fuq 506-4030 5061-4030 u għan numru fejn indkom tistaw taqamlu kuntat maħna. Naturalment mħallu d-detta li taħkom għan anċemplu l-kom l-għra u tkunu tistaw t-ġu għanek u t-għatta u t-għin maħna u ħvera un-għamlu bidla u kol għorsi ki l-bidla li l-diet kom ħtaqtu li taħamlu u ħvera. Sista nistaw naħedu di jaminna xinna għallaw kol l-nissena konna suċess u kol vħdan il-program naturalment dan il-program għandu għaddej saġunju għallura naħseb li tkun kumpanija taħi banka li kom il-telespetta turi tkunu din seħgu l-program taħna bell-le-doni. Naraw minni il-protagonista taħna tħlākna naħna rāfli mkħin. Għamo Donne Oħtvele għambe c'è di pjū Donne, Donne Un-univerx-e-mēns-e-pjū Senza Donne Ma sajk e noja qui città Donne, Donne La vita għira un poħ di pjū toħ Some of the colors we all used to wear in a shade of color Some of the colors we used to wear in the shade of color I made the michael cover of my shoulders I used to wear a whole person with my own And the color of my shoulders were most cas trivial I kept it from my eyes A little bit more Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 tali ovviamente togġoba u kolt kummanna fu dawna il-snin fil-programmi Belle Donne min qalbi nishtiqnin ringrazia ghafna il-papatijak lil-surġaw mammo u lil-senioratijaw li ovviamente innanatmu u kolt dawna il-snin kolla fil-imkin u grazie u kolt ma lix innistawna idu u kolt kum parti min min sponsor li naturalment kul fej ovviamente konna nkunu specialment an kajiena di jem kienu ikonumia i grazie ghafna min qalbi nishtiqnin ringrazia ghafna nini ringrazia li leg Jessica ghaj Jessica u kolt jgha persona li kienetu kolt il-bidu ta'na tali fil-programm Belle Donne min jafkem ovviamenteġeo tele-sbettatori u ma ovviamente tele-sbettatori il-protokonisti tali program ta'na Belle Donne kulħat li s-skelma kulħat jgho pjecġiran kamata iġi ghandek nishti persona verament li jghi persona li jghi dedikata ghafna u verament nishtiqnin ringrazia il-kommul kumpanija kolla tal ovviamente Grazie a tutti. Oh donne, oltre le gambe c'è di più, donne, donne, un universo immenso e più, senza donne, ma stai che noi abbiamo in città, donne, donne, la vita gira un po' di più. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 D'oche un'aggiunta ma no a se chiede. Per esempio, cosa chiede? C'è, per esempio, un'amie di staffing. Ecco la città di una ragione. Per me ha avuto una città di una cosa non è finita. Ma non è un'amie più forte, nelle prossime persone con il coro di un portone. Si chiede una scotture su da stagione. Si no, non è un'occhiata. Si stavano all'arergio, l'argomento del coro di coro. La scottura al coro del coro. Non è certo. Non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non era importante, ma è vero. Non ci si chiama sempre. Non ci si chiama sempre. Non è vero. Non ci si chiama. Non ci si chiama sempre. Non ci sguardo. Ora, ora, ora. Si è vero. Per particolare, quando c'è un'altra cosa, che è avuto l'argo di farlo. che non è vero, ma non è vero. Ma vero, ma non è vero. Ma non è vero, è vero, è vero, è vero. E' vero, non è vero. E' un punto di ragionamento, ci sono i color, il cream, il cream, il cream, con il collagen, il powder, il cream, il cream, a un po' di più. E' un po' di più. Si fanno anche un po' di più? Ci sono un po' di più. Ci sono un po' di più. C'è un po' di più. Procedendo. La prima è che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un po' di più. E' un po' di più. L'ho non lo so. L'ho non lo so. E' un po' di più. Quindi, non c'è. Ne voglio dire. Dicca di iso. La battaglia con il fatto, perciò che li fanno così. E l'intenzione di la relazione di questa rincazione. Il fatto appare dappare nella storia di iso. E' di un'opero paracalica. Si, l'initione di all'epoca. La battaglia di azzolta Inizia di azzolta azzolta. C'è unawegsia di archite. Perciò che viene a farlo da lontano? Erre, con inizia di le federe dell'agric jeden. Nella prima volta. l'importante Tanti juwa, il-muxi kollok il-riha, specialment, metta jikollok den li kunu xotti. L'importanza ija, il-li bni dem jara ingredienti il-li sejizommu il-lit morbida. Iktar minnek, il-li jinti metta tapplikah, muxi sempli ġementet iddellek, et jittħol. Kif tinduna, jek kinti wara, isu 5 minuti, gantzi 10 minuti, jax da diġadaħal, sa kem eddinnit kem u diġadaħal. Ikti tħos li jadu ijiet mdellek, ma ladaħ muxi tħitħol fil-ġilda. Daħ jiet sempli ġementi ddellek fil-witch, u muxi tħitħol fil-ġilda. Loro importanti, il-li jahna nuzaw, bidan il-insibu prodot il-li jutaħeb. Il-hydro cream partikulari, per rezempi, jifieh il-collagen, lina fuwa il-proteina il-l-jolda b'saħita. Il-ġilda b'saħita. Għandu elderflower extractu gġinseng, il-ġinseng jien biex jistimula il-ċelluli il-li jizom murwiħom b'saħito u taħjbin. Issa, rigward il-masaħ tal-liet, għalli xħin tħasr-mejtu u għat li konna iddinnit kelmu. Wa importanti għafna, il-li b'dak li jkun, anki metaj jkunet jammel li l-nifsu, pero partikularment metaj jkunet jammel, tratament, gġossalun pħalma metaj jġu għandi biex jammlu il-manikjur, jisir il-masaħ. Il-masaħ jisir, mittarf tħad-difer, lid kolla sal min-kep. Waħna kunu iddinn, inneħhu il-tenzjoni kolla li jkunem fil-swaba. Tis-kanta b'nidem kem jkollu tenzjoni fil-swaba. Lew l-ħħġa biex jisir b'nidem ukun ijat jenu kol l-muskollu tal-spalla, għalli x min-nizzomlu kiebe sek, inti tkun t-rit tajnu biex jerħi, għank jallura jerħu il-tenzjoni li jkollon fil-spalla, ma li jtkolla, u jinn-nuża il-sistema t-riflexologi u kol. Fejn, nuża il-postijet il-li kuna għonek, biex jinti tkun ijat, palma għamlu reflexologi fil-saħajn, għad għad għamlu fil-viċt tal-it u kol. Għallura jinn ankunat na għadim, per-meċt tal-it jinn-kunat na għamlu għank iġġit għalki fuq id-dar, fuq ir-ras, fuq il-stonko, fuq il-saħajn. Simpli ġimed bil-li ngużalit. Un-bata għanna l-muskolli il-li jgħamna għneke, il-li dawnu ma piet-tost muskolli il-li ma p-sahħitom, u jairfaw bħhafna. L-lu rawu importanti li ħanna dawn, njnkullu qadin, nitratawom, u kol. Uwa hand cream, dawn uwa body cream? Dan, uwa hand and body. Tistat-tu zaħħ. Mal-persona kolla. Mal-saħajn, utipa tila fuq. Fil-faat, kul mai kħu nam zon, ammond zaħir, ammond daqs ta five-sens i saħu, minn-ja, il-li paresna bitt ta five-sens ma jairfawm nix. da gli sottoli tanti di 5 cent. Non? Da. 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 Gli insetti a parte. Gli insetti da parte. Da. 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 Arte. Gli insetti. Ma l'evalore. Gli insetti. Ditti. Gli insetti. Gli insetti. C'è un aspetto per cuoreRA, il risa quanto il giorno. E'ла anche il risultato di esprimato. C'è una città. Il risultato di dene il darro, la relazione d'arri e l'amore. Il risultato di prodotto è la città. Darro l'amore che abbiamo attraverso il risultato di il rimcio. L'amore che si occupazia il risultato del risultato di tutto il risultato. Sabiha ħafna għalix ija rilassanti immens. Danuwa, iżat li stess pal Hydra Cream. Pero għandu zjuti jit essenziali mi zjuda miaw. Għalura jikollu il-beneficiu ta zjuti essenziali u koll. Mela, xantiju lag biex iċxomu għandu riħa sabiha ħafna. U automatikament ma liċxomma tħos ise t-rilassa, ise ket tħuħu nif siktar għuwi. U daka u għu l-fett tjaw. Isu di peppermint u gol? U pab nuna, krem, krem. Pero t'insiex, il-ħafna nis għanki iżomu differenti. Għalura, finn per reżemp, jqħalu dan għeml grapefruit, għeml milkshake. Għeml jikun jiepreferi, għiet minijuħor. Dak li ti preferi, jikun tħajja palik. Għalix l-persona tijak, l-fizjoloġija tijak, automaticament sa taħzel dak li ju tħajja palik. Man ninsewx il-jagvoli għab nħedmin. Għandu għandu l-riħatija u differenti. Għvoli għab nħedmin, Pirro ma tajkolog Fera Dry Skin, dhur, dak li jikun forci kol l-għanka, melġinda tijaw, li tibdaħ izati dħerfti, tħanajduwek, imkemxha. Tajjab, speċħalment fil-diħijna. Tajjab, għanna, aqtar n'użaw il-hydro krim? Għanna n'użaw il-hydro krim, u għtar m'neki nirakomanda li dak li jikun jwza il-phenomenoil għabel. Wabzon jwz. Wabzon jwz. Li tħallati izak mal krim? Iva, speċħalment izsa għali ħisip, l-li jikunam ħafna nisili. Mus-simpliċi men dry skin bħissi kollum, pero, isa il-ġilda ma tifunzjonax daqseg tajjib fil-kesħaf. Għallura tibdat tħarqaċ, tibdat tħħxin, tħarqaċ u tħinqasam. Mal għallura l-importanza li jinti zzit, maħxun xinu għalek mħżewċ ħafari differenti, għaxxin tituza skont u metħa għandek bżon bis. Għallura għandek il-fenomenoj li seta għam l-qattra minnu fuq l-liet. Fuq l-parti li jia fettwata. U twm massagja, għankħi, bjn swabba, għaw nek. Umbad taq melil-hydro cream. I jin għamlta, bil-kontra, aqsħin, aqsħin, għamont taħin, għbira. Jin għamlta bil-kontra. Lħin qwna iddin tkèlmu bil-hydro cream l-awwħħl, Umbad taq perroxħur taq wahda jidħol, ila lix l-hydro cream jidħol fil-ġilda l'importanza taħi, l'ingredienti taħom il-tenejn jekonu katalisti għi fi riejnul l-xurxin Mekka għandek, hoħoba oil, fil fenomen oil il-hoħoba oil, ija zejt għi ħafna u għalek jam il-tan tħġit, fil-fatu għa zejt il-li kappaċ janki fejja għilda li tkun maqsuma jajn għanki tċelluli il-li kun għadin jibattu mil-funzjoni taħom jierġaw jibdaw jahadmu b-motaħ wgħalej kuwa tant tħb-saħtu Qħiferi, prefenomen oil l-li jgħanun użaw Prefenomen oil l-li uubat teħħe ħidra kelion Piro jekbnidem bi-kun ne saħmish problema fiex hinqandum jissiru jid-dependy l-bżunn tadak li koon il-fenomen oil l-li jek sattu zaħħ ad-difer generalmente nes-esbuj komdu li tħamnu fil-axija xun-batminti s-satt aħse li degħu s-tippa sei ħira għall-irqat u seħi ħnim Quindi non è necessario del cuore rante. E' la ricche di raccomanda l'e-dizminia di un'epoca per un'epoca. Dimmi, una città per un'epoca. Specialmente, l'e-d'o che si mettono con il cuore e si mettono con il cuore. Fillo di, fillo di, fillo di? Fillo di, fillo di, fillo di? Fillo di, fillo di, fillo di, fillo di, fillo di... Fillo di? Fillo di, fillo di, fillo di? E' un'evolta in quanto riguarda il gestione. E' un'evolta in quanto riguarda il complice, ma è una situazione che non si è infezionato. Si è un problema. E' un'evolta importante. E' un'evolta importante, ma è un'evolta che c'è un'evolta. Non c'è un'evolta, ma non c'è un'evolta. Ma ha avuto un'evolta, e quindi si è più importante. Si è molto importante, è così. Il caso di che il caso è stato fatto a 25 anni, perché non si è stato fatto a 19 anni. Perché si è stato fatto a 19 anni, 20 anni, e quindi, prima di andare a fare il caso. Non c'è l'unica, che non c'è un problema Oltre quanto si è un prodotto del kore, dove diventa un prodotto e diventa un prodotto da un prodotto e le d'avaglio e da un prodotto che si può farvi una nuova, che si può andare a avventare di una nuova e un prodotto oppure da un prodotto che si è piaciuto i prodotto da un prodotto che si è un prodotto di prodotto da per esempio l'hydra cream fuq persona li tuzza, anke ma l'persona, kolla, għammi il-xur sti txur i servij, iġiviri, verma t'entri kollo prodott tajjeb għawi tuzza ftit, economicamente, u jiservij kħafna. Mela, ħanta mu propju idin il-stazzjoni, pero abbeġeħ għan għaddu l-prezzjiet. Kif tafu, għan sinjura, ħan antukum spiegazzjoni, informazzjoni, għal xieċtu zawom, kif, meta, kome, un-bata ħan għan għaddu l-prezzjiet. Iso drajtu għanka kif naħd mu propju għanka fuq da l-stazzjon u għanka fuq naturalment il-program tana belle doni. Mela, għan uneku koll għanna il-packages li tajjeb għanka nibdew biħom un-tukum ankar prezzjiet aħħlina uneku koll, pero idun fakkar komu koll li daħuna ugħaddista u koll, jak questom bil janka iċemper fuq il-numru li jattider palissa li uwa iċtnen ugħadd 3-għaddissa 3-għaddissa-tlita-settat-menja Jiew inkella? Disadisa. Erba, seba. Seba, uħadd, uħadd zero. 9947.7110. Jiew 21319368. Jattider il-numru kontinu għament. Nellie, il dettaglio della base di un'evole è un'evole da QE, a 126666, e naturalmente sono stati numeri che hanno chaffuto in fronte, e ci sono stati di QE. Ma naturalmente, è un'evole da QE, e un'evole da QE, e un'evole da QE, e l'evole da QE. Il French Twist è il packetto di QE, con il Tratement Based Code, il Claude Coloreta Rosa, e questo è il frienz tip del brilience. Questo è il 2950, il prodotto. Il nai l'art kit è quello che ci fa' il affetto e il rispettatore, l'affetto e il trattamento. Il rievo il stock e il rievo. Il rievo il rievo il rievo. Il rievo il rievo il rievo, il rievo il rievo. Il rievo il pennica che ci face e il ha fatto il rievo. Il prodotto eccellente. Daqqa jimbiħaw bħala pakket jonke la Unke Singles. Kulwiħet uwa 5 euros u 30 euros il pakket siħiħ li fiħsit koluri. Peeling nail kit dakqa uwa għal dawk illi għandum il-dwefer li jinfetħolom. Iħu uktiep, l-traspetatoria idu li jħu isu ktiep. Iħu isu folja-folja fuċ xorxin. Dakqa il-peeling nail kit għandum il-fusion, il-phenomen oil u il-brilliance. Mħda taneħhi il-twefer artificiali fiħad kifrajna fuħu mel-roze. Iħu ndanar alla peeling. Tiħu izzaw kol jifrodot minnu? Jini prefer il-after acrylic kit uba. Isħu nispiega il-għaliħ. Il-peeling nail kit uwa għal dawk illi jinfetħolom minħabba, użu, joo inkella illi eħu għu mid-dakiet. Udaq uwa 36 euros. After acrylic uwa għandu restoration, fenomen oil u brilliance. Il-sodown li jenfil f kul pakket jistawiex trwa manki singles. Ul-prets li istas jiegi fil jegnidem jajtirit il-pakket il-pakket jonka laiki spiqalu xaġa minnu jistaj jiegi jishtri l-sfuzi minnu. Ma la, u laftaric l-A36.50. L-sfuzi adin 12 euros il-weekat, xli f-restoration il-A12.50 u l-critical care il-A15.50. daqa li xiumma għaldwefer li jiumma malandati għafna għandum zon għafna 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 attenzjoni għalor prodotti ri tikun iktar b'sahtu. Unbat għanna l-hydro cream 20 euros 50 cents u l-hand cream lizzal 585. Nib il-numor 1725 għandek fli xkun twil u dana ma għi xkun għirivan fi hambunt muxħhazin u l-addaj għija il-li dab għal-kollux metta b'nindam jammar rezoluzjoni jissa jikun il-li għaraftit isu jaqa jierġa jibda mħil-ġdīt. Għanora t-terġa t-ibda. Għajt ma jimportaċ. Jierġa jibda b'nni bil-numor u għar jibda. Tek tamlu tablikah spiess? Tablikah, u ma jie jirakumanda u kuljjum. Pero peresli ma jienħasil xfaċil mħend blil. Ma jieġifiri taħsil iddjejk, ma jieġifiri taħsil iddjejk, kliter b'tijim iser vik. ħifiri taħu jomain wa t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Għaliħ, jieġi kinti janddek il-rutinna, ddek li kun il-rutinna setajn, angki, bishu jaqtaq il-vitsju. GħaliQ għaliur t-tt-t-t-t-telt-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. GħaliT JÖCK HEW THEuan Di CLEW HħĀħ AċSULTU UNAJ Anytime Dihill an-Jabni разbegħN NAMOR GħaliT Bihħħ AIJated biħ ħħħġ DAKE LEW EL wieder Għaliħ – jejaltago Anlieię Minski، K formulasih j рез 립or muscles and rigerio il-li għandi għawnek, uwa il-retroxik uwa dan il-femm fatal. Għallino liħmin għawnek, il-femm fatal il-numru tijaw uwa 4-2-2 dak uwa il-numru il-li għandi Femm fatal. Femm fatal. Femm fatal, okej, femm. Li jagbil, uwa bil-franċis il-li tfisser mara fatali. Ekkum, mara fatali, x-femm. Pero għawnek għandi tlet-kuluri uħrajn il-li rit-nur jom ila lex il-moda bħalissi jgħafna fuq il-burnt orange dak il-tieb ta' kuluri il-li nafli li lak joġbok hafna. Uħarġu moda, hafna, dawe il-kuluri saħna nisk jgħazbu, il-li oranj viħetem mentri jemmek jgħibt tleta kuluri differenti u fil-monitor forse għandum nej jibdaw jgħorġuna rektar fil-ahmar, jgħu fil-roza mill-li oranj, pero daw kum oranj. Mela, dal-nuwa il-lusi l-lisemmejt laħar darba. Isma qodwa tenti, speċħen ment ħanajt il-nummi jgħu qodwa tenta, ma qodwa tenta il-numru. ħħu qodtajdli bħal makkella dorit, tħaske mikoħu qodla dorit. Mena kunx nafezzat l-lumum, jgħu qodwa tenta il-numru mba tajdli. Mena, dal-nuwa il-lusi. L-lusi uwa il-407. 407? 407, il-lusi. Lucy, li-ħor? Tajjep, li-ħor uwa l-ħana 405. Okej, l-ħana ħnaġu il-pompostu. Kem-kem miktar ħamrani, l-ħana 405. U dan, laħar viħet, dana jismu Spiced Shiraz, 439. Dan, li-ħamilt fuq marjen l-lum. 439 Spiced Shiraz. Dak, li-ħamilt fuq marjen l-lum. L-lum, ti-ħamilt fuq marjen l-lum. Tinsew, xanka għanna l-sms, senjuri. Min-ixti. Naturalment, taħħu naħu ħanek, maħin uftħuċi l-lintat-telefon. Ninamnaħu ħanek, vera. Nixte, nir-ngrazzijako, maħċħu ħanħu ħanħu l-mistaħx, mli, ovviħamint, kħenna n-nkaħal recording taħana fil-program, umaħ loka keli janka, aktar l-ħans fi-zmi, aktar l-ħan tembanta. L-lum, eħ organization għara, aktar l-lum, menome, λη, Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.